Musica Arriva su Rai 1 Ognuno è perfetto, una commedia tenera ed emozionante che racconta l'incredibile avventura di un gruppo di ragazzi in un viaggio unico e indimenticabile, gli vedrà attraversare frontiere e sfidare pregiudizi, una storia che commuove e fa sorridere, al microfono il regista Giacomo Campiotti. È una grande storia d'amore di Rick e della sua ragazza che è in Albania e lui quindi attraversa mezza Europa per raggiungerla, ma è anche una seconda storia d'amore, vedrete voi. Io ho la sindrome, quando li guardo negli occhi io non la vedo. Questa storia dal titolo Ognuno è perfetto ti racconta di quanto poi ogni essere umano sia mosso dagli stessi istinti, questa storia in particolare dalla ricerca della felicità, poi ognuno con i suoi mezzi, con le proprie capacità, questo ci accomuna. E all'interno di questa storia questi ragazzi portatori della sindrome di Down e con disabilità diversa all'interno di questo reparto di packaging insegneranno a quelli che in questa storia sono i normodotati e che lo sono anche da un punto di vista diciamo genetico. Com'è necessario liberarsi anche di una serie di autolimiti per rincorrere alla felicità, all'amore e quindi essere felici e non aver paura di rischiare? Ciao, io sono Cristian. Il mio personaggio è Cristian, un ragazzo orfano con dei problemi, che vive e lavora all'interno di questa comunità, la fabbrica di cioccolato dove ci sono anche gli altri ragazzi, e di far parte di questo gruppo di ragazzi speciali ed insieme insomma fanno questa avventura d'amore incredibile, insomma ora sul Re1 lo vedrete tra pochissimo. Ehi! Oh, in Down ce l'ho io eh! Ma che cosa ridi? Siamo persi a piedi in Kosovo! Ivan è semplicemente il papà di Rick, questo ragazzo con la sindrome. In realtà non c'è stata una particolare difficoltà, nel senso l'unica cosa che andava fatta era dimenticarsi di lavorare con dei ragazzi con la sindrome, e semplicemente tartarli da colleghi, io ho fatto tutti i miei studi come faccio sempre, le mie ricerche, ho fatto tutto un lavoro di preparazione, ho cercato di immergermi in quella che poteva essere la vita vera di un papà che è un ragazzo con la sindrome. E poi quando sono arrivato sul set ho buttato via tutto perché bastava guardarci con Gabriele e io ho dovuto imparare a volergli bene, lui già mi voleva bene da prima e questa è la cosa che è stata incredibile. Per me è altro di più di emozionante, in senso che ho fatto ammiglia subito con gli altri, sia che stai dietro alle telecamere, con tutti, quindi la mia emozione è fare un'officio con la fidanzata mia. E soprattutto a chi sono veramente emozionata con il fidanzato mio, Rick? Tina. Fate troppi casini, così non troveremo mattina. E ci sono solo 90 euro. Vado in un albergo? No, non basta in un albergo. Mi rifiuto. Ci tocca dormire per strada, per strada. Mi rifiuto, torno a casa. Il lavoro sul set era una follia, era una follia perché loro sono bravissimi a improvvisare, ma quando c'è da fare una sceneggiatura scritta, con i dialoghi precisi, così, insomma, non è facilissimo. E quindi ho dovuto reinventare un po' il mio lavoro, mi hanno aiutato molto anche gli attori, diciamo, tra virgolette, normali. Abbiamo trovato degli espedienti, giravo senza ciacca, non ci fermavamo, ripetevano le battute, a volte recitavano con me, insomma. Le ho provate tutte, perché poi ognuno di loro è diverso, quindi con ognuno c'era un metodo diverso. E a un certo punto ho pensato che saremmo stati in Serbia e in Croazia per tutta la vita, invece siamo tornati, quindi sono contento. È stata un'esperienza molto, molto particolare, anche perché, insomma, sono stato a contatto con loro tutti i giorni, per circa sei mesi. Abbiamo portato avanti, insieme anche altri due coach, il lavoro, insomma, di preparazione del film, anche con gli attori, insomma, tutti insieme. Paolo, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è il nostro papà è lì, è bello. Non ho mai avuto figli, improvvisamente, non ho mai avuto figli, che bella la televisione. Sono stato catapultato con più di 200 scene, solo io e i ragazzi, quindi, insomma, è stata un'esperienza unica, sicuramente, anche se in 30 anni della mia carriera ho lavorato più volte con attori, e anche tutti gli attori, come i psichiatri, sono tutti abbastanza patologici, con le loro sindrome, quindi, insomma, non è cambiato molto. Ma loro sono particolari, sono pieni di energia, pieni di amore. È stata un'esperienza bella, intensa, e sicuramente mi ha lasciato tanto del cuore. Non voglio che stai insieme per me. Non voglio essere un peso. Ehi, guarda che non sei mai stato un peso per noi. Se vi lasciate, mi state nemmeno addosso. Adesso sono grande. Anzi, stasera, poco io. Papà? Sì? Dove sono? Penso che è un film molto divertente, un film per tutta la famiglia, però, oltre al divertimento, forse ci fa un po' riflettere sul concetto di normalità e diversità. Questo confine è molto, molto labile. Questi ragazzi, sicuramente, sono diversi da noi, ma chi è uguale? Siamo tutti, io e te, siamo tutti diversi, e ognuno ha le sue caratteristiche. E loro, per esempio, sono dei grandi maestri. Per me sono stati dei grandi maestri perché hanno un cuore aperto. Non nascondono i loro sentimenti, anche magari quelli negativi, quando si arrabbiano, te lo dicono, si arrabbiano. Poi però gli passa, e quando gli passa, gli passa davvero. E poi hanno questa grande solidarietà tra di loro, questo senso dell'amicizia, del gruppo. Insomma, è stata veramente un'esperienza molto dura, molto faticosa, diversa da tutte quelle che ho fatto. Però sono molto felice. Ti voglio bene, Rick. Rispetto. Ti soffri tanto, ho un cuore grande. Io sono capo retarto. Non è colpa mia, sei sempre molto sexy. Mi serve proprio una donna. Ho stato la vita pensando di doverti insegnare tutto, invece da te io non finirò mai di imparare. Agli amici della Voce dello Spettacolo, un saluto, ci conosciamo da tanto tempo, non traditemi neanche questa volta, non sarete delusi. Un grande saluto agli amici dello spettacolo. Ciao ragazzi. Non la perdete. A questa sera. Ciao. Ciao. A questa volta. Ciao. 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 Grazie a tutti.